Una campagna di comunicazione che punta a fermare il valore del consulente finanziario, una campagna di comunicazione che dice al risparmiatore il tuo migliore investimento è affidarti a un consulente finanziario e questo è il punto importante su cui soffermarsi a riflettere. Parliamo di educazione finanziaria, dobbiamo rendere certamente consapevole il risparmiatore delle certe investimento, ma ancora di più dobbiamo dirgli che non è facile fare da soli, che i mercati sono complessi e che per raggiungere i propri obiettivi è necessario avere accanto un professionista, il consulente finanziario. OCF, l'organismo di consulenti finanziari, questa campagna di comunicazione la fa proprio con questo obiettivo, è un valore avere accanto nel percorso di investimento un professionista abilitato, che ha delle regole da seguire, che è vigilato, che è scritto all'organismo dei consulenti finanziari.